da quando sono vegetariana più di 30 anni ormai mi sento fare questa domanda ma voi vegetariani con il ferro ma come fate in realtà ci sono moltissime fonti vegetali di ferro e lo sapevano bene i nostri nonni che seguivano la dieta mediterranea originale povera di carne e prodotti animali questo comunque è certo il ferro è un minerale essenziale per la nostra salute soprattutto per la formazione di emoglobina e mioglobina per il trasporto dell'ossigeno quindi ecco quali alimenti prediligere per evitare le carenze di ferro se si segue una dieta priva di prodotti animali cioccolato fondente pensate contiene più ferro della carne di manzo in proporzione ovviamente alga spirulina contiene ferro calcio e vitamina b12 legumi nella dieta mediterranea sono le proteine veg per eccellenza ricchi di ferro potassio e fosforo verdure a foglia verde al primo posto gli spinaci cotti perché hanno ferro più bio disponibile di quelli crudi tofu anche la soia contiene ferro e se si scialgono prodotti bio non o gm sono anche più sicuri il trucchetto per un assorbimento migliore consumare tutti questi cibi con la vitamina c cioè una bella spruzzata di limone e così raggiungere la giusta quantità di ferro ogni giorno è facile anche per i vegani e i vegetariani se ami la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao